Il porto della pistola semiautomatica con il colpo in canna è una procedura che ancora suscita perplessità. Questa modalità dovrebbe essere evitata solamente da chi utilizza armi antiquate che mettonicamente non lo permettono. Nel resto dei casi il colpo in canna consente di diminuire i tempi di reazione evitando ulteriori manipolazioni, evitando di compiere ragionamenti difficoltosi sotto stress e lasciando libera la mano bebole per effettuare alterazioni atte a contrastare l'attacco. L'utilizzo del timer mostra la differenza dei tempi di reazione utilizzando meglio questa opportunità. Specialmente negli scontri a fuoco a distanza ravvicinata, quello che manca è il tempo e oltretutto arretrando il carrello si è costretti a protendere l'arma verso l'aggressore che può sottrarcela.